Buonasera, buonasera a tutti, bentornati alla nostra trasmissione a spasso tra le nuvole e bentornati in compagnia di Marco Diorello. Buonasera Rino, buonasera a tutti voi. Stavo cercando l'appiglio, volevo capire dove volevi andare a parare. Che puntata numero è questa? La settima della stagione, siamo ancora a una cifra. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo vedere la mappa che abbiamo conquistato altre due regioni, tipo risico, effetto risico, abbiamo conquistato la Lombardia e la Toscana. Simpaticamente, quei due amici che stanno in Lombardia. Sì, esatto. Ecco, l'Italia di a spasso tra le nuvole ci siamo montati la testa. Scusa, sono fuori regione, non ci guardano tramite la tv e quindi va bene. Allora, Loredana e Maurizio Novati da Paderno Dugnano, quindi in provincia di Milano. Grazie a Loredana e grazie a Maurizio. Sì, tra l'altro, dopo di questo ti faccio vedere un bellissimo tramonto. Sono sorella, moglie e marito, no? No, sono marito e moglie. Vengono in vacanza a Tortoreto, li conosco. Ah, ecco. Però non è che sono, raccomando, sono amici. Grazie. Va bene. Poi, Roberto Rapposelli da Forlì, il quale mi ha specificato che ha il padre originario di Chieti Alta. Rapposelli è un cognome abruzzese, sì. Di Chieti Alta, non di Chieti, di Chieti Alta. Ma come diceva Arbore, ma Chieti Chieti? Chieti Alta. Chieti, quello è Chieti, non per Chieti Scalo. Esatto, esatto. Chieti Alta, Chieti. Chieti, eh. Allora, poi c'è un gruppo di fungaioli di quota. Di quota? Quota, però, non è alta quota, ma è una frazione comune di Poppi, in provincia di Arezzo. La frazione si chiama Quota. La frazione si chiama Quota, il comune si chiama Poppi, in provincia di Arezzo, in provincia. Quindi, che avevano le quote, come a Roseto, si dice Cutarula, adesso in termine non spregiativo, però, cioè, derivava dalle quote, le quote di terreno possedute. Qui invece proprio si chiama Quota. Quota. E il responsabile di questa chat, che poi è una chat di WhatsApp, non è un gruppo Facebook cosa, Luigi, e saluto soprattutto Stefano, che è la persona con cui ho parlato. E Luigi, ma noi salutiamo Stefano. Praticamente questo... Siamo per Luigi, però. No, siamo per Luigi, ma tutto il gruppo. Tutto il gruppo. Praticamente 140 e sono, sì, ci vedono, perché il signor Stefano praticamente condivide il link tramite la pagina di Bruno De Ruvo, Fungaiolo. Se sono Fungaioli, Bruno è il rass del Taranto. Il domino assoluto. E praticamente questo gruppo... Bruno, lo chiamiamo, ehm? Assolutamente, sì, dillo ufficialmente, segnatelo. La prossima volta sei con noi. Sì, infatti, in collegamento qui in diretta. Allora, dicevo, questo gruppo praticamente è composto di persone che vivono in Toscana, Emilia, Umbria, Marche e Lazio. Quindi tutto il centro... Colpo solo abbiamo fatto... Abbiamo fatto secco, cinque regioni. Va bene. Ti faccio vedere a vola un tramonto di Paderno, Dugnano, di qualche giorno fa, bellissimo. Guarda qui. Ce l'ha mandato... Ce l'ha mandato Loredana. La coppia. Guarda lì che bel tramonto. Hai capito. Che colori spettacolari. Tra l'altro quelli sopra e in alto sono i cirri, eh? I cirrocumuli. Giusto per rimanere in tema didattica, visto che adesso andiamo in didattica. Bello. Bello, vero? Grazie. Grazie del pensiero. Esatto, visto? Grazie. E allora, andiamo subito in didattica. Dalla Valle d'Aosta ancora niente? Niente. Chiediamo a tutti quanti se ci sono persone della Liguria, della Valle d'Aosta... Ci manca per il quanto... Ma possiamo sentire a noi alla Valle d'Aosta? Beh, che ne so. Però sarebbe bene. Ma non si sa mai. Ma anche l'Alto Adige, mi piace. Ma infatti, Alto Adige, Friuli, Venezia e Giulia... Sancti e NAR. Faccio aiutare Sancti e NAR. Dobbiamo conquistare anche tutto il sud, lì, Sicilia, Puglia... La Campania ancora niente. La Campania ancora niente, infatti. Scriveteci, se ci guardate da fuori regione a brutto, scriveteci. Vogliateci bene. Vogliateci bene. Alto cumuli? Oh, sì, oggi parliamo degli alto cumuli. Dopo aver parlato dei cirri, cirrocumuli, cirrostrati, iniziamo a scendere di quota. O gli alto cumuli scendiamo? Gli alto cumuli scendiamo, sì, perché gli alto cumuli sono delle nuvole che si formano più o meno e sono i 3.000-4.000 metri di quota, quindi per capirci, poco sopra le cime dell'Appennino nostro, no? 3.000 con il Gran Sasso ci arriviamo, 1900 e qualcosa. Sono un po' sopra e hanno caratteristiche simili, se vuoi, ai cirrocumuli, nel senso che sono, diciamo, simili, no? Tant'è che, guarda, ci si può imbrogliare. Poi ti faccio vedere una foto che mette a confronto i cirrocumuli con gli alto cumuli, però prima di parlare ti faccio brevemente le caratteristiche. Sono delle nuvole che, appunto, formate non solo da cristalli di ghiaccio scendendo di quota, ma anche da goccioline di acqua, quindi sono un po' mix. E infatti non hanno solo colorazione bianca, ma possono essere anche grigiastre, questo ne è un esempio. Poi che cosa? Si formano allo stesso modo, cioè praticamente quando l'aria calda si solleva, questa volta non come per i cirrocumuli alle altissime quote, ma le quote medie. Quindi non solo può succedere per l'aria calda che si sovrappone all'aria fredda preesistente, oppure addirittura quando, muovendosi, l'aria calda deve salire un ostacolo orografico, tipo i monti dei Alpi, gli Appennini, e quindi si formano alle medioaltezze, no? 3.000, 4.000. Tra l'altro sono anche più spessi, perché è una nuvola che può raggiungere anche i due chilometri di spessore, quindi molto ampia, ed ha la caratteristica di, come vedi bene, coprire il sole, anche se non completamente, ma lo copre. Un po' di più. E si crea l'ombra a terra, cosa che non facevano i cirri nelle varie categorie. Ti faccio vedere a volo la differenza, perché possono sembrare simili all'occhio. Ma simili non sono. Ma simili non sono, perché, eccolo qua, guarda, ho fatto due foto sovrapposte di alto cumulo e cirro cumulo. Vedi che i cirro cumuli sono molto più sbiaditi, bianchi. Cirro cumulo è come un alto cumulo che si è un po' spagliato. Sì, sono più piccoli, infatti i cumuli sono più piccoli, sono bianchi, diciamo meno compatti. Perché ci fa pensare alla neve a noi, vero? Eh sì, ci fa pensare a noi, ma non c'entra niente. Non c'entra niente. Diciamo che entrambi, gli alto cumuli e i cirro cumuli, invece fanno pensare al proverbio del cielo a pecorelle. Sì. E infatti, diciamo, entrambi sono... Quando il cielo a pecorelle è un alto cumulo? Sì, principalmente alto cumulo, oppure anche cirro cumuli. Però con l'alto cumulo, diciamo, la probabilità che a breve avremo un cambio del tempo, quindi pioggia, temporale, eccetera, è molto più elevato, diciamo, rispetto ai cirri. Quindi, finiamo il didattica con due esempi di cirro cumuli, oltre a questi che sono stratiformi. Eccolo. Con l'alto cumulus flocus. È simpatico assai. È simpatico assai. Poi tra l'altro questi particolari alto cumuli flocus sono quelli che, se visti al tramonto, all'alba, sono davvero spettacolari. Spettacolari. Perché assumono una colorazione rosa, rossastra, gialla. Perché è un po' più a fiocco. A fiocco, sì, a cotonello, così via. A batuffolo, ecco, diciamo così. L'ultimo caso, invece, molto particolare, è l'alto cumulus. Forse non è troppo particolare. Sì, translucidus. L'ho inventato tu ieri. Sì, sì. Assolutamente, è sempre. Ma dai, translucidus. Ma non esiste, dai. Guarda lì, se tu lo vedi bene quella foto. Voglio la vedere bene, fa che io guardi, aspetta. Guardala bene, dai. Vediamo un po'. Translucida, dai, dà l'idea di un... Ma l'hai fatto tu a casa con una lampadina dietro, no? Assolutamente no. Bello però. Però è così, particolare. Alto cumulus, translucidus. Mi sta simpatico pure questo. Perfetto, benissimo. E con questo chiudiamo la parentesi didattica e ce ne andiamo in previsione. Ce ne andiamo in previsione perché siamo nel bel mezzo di che? Perché si è spalancato l'Atlantico. L'Atlantico. La porta atlantica si è spalancata. E' arrivato un po' di frescolino. Sì, è arrivato un po' di frescolino. Adesso si scateneranno... Le piogge? Le piogge. Ma quando? Eh, lo vediamo. Strada facendo. Strada facendo. Ci possiamo alzare, dai. Andiamo in previsione. Andiamo in previsione. A vedere quando pioverà. Esatto. Perché noi daremo, sincronizzate gli orologi a casa, eh. Daremo anche i secondi. Sì. Neanche per domani è facile. Neanche per domani. Allora, iniziamo con la nostra cartina dell'Università Meteorologica di Berlino che ci dà i nomi ufficiali. I colleghi autonici. I nostri colleghi, anzi, diciamo che sono gli unici autorizzati dall'Associazione Mondiale e da noi della meteorologia a dare i nomi a tutti gli altri che si sentono. Questi sono... Questi sono quelli ufficiali. Questi danno i nomi. Perché adesso, per esempio, per dirti, è uscito fuori Medusa. Non c'entra niente. Il ciclone si chiama, si chiama Victor. Mi ha detto, come si sono permette? In Italia, queste altre. Noi dobbiamo mandare, io dico, almeno un partenopeo, che è un nome, Ciro. Ciro, beh sì, esatto. Ma ci saranno, secondo me. Prima o poi capiterà. Allora, abbiamo praticamente, questa è la mappa inquadrata per domani. Li a destra, ce n'è uno che non si può pronunciare, LVE. No? Live. Ah, live. Allora, non ho visto live. È live. La live, non so se è live. Sì, è un po' sfocato da qua, non riesco a leggere. Vedo il live. L. Ah, LW. Ah, U-V. Uwe. Uwe Seller. Uwe Seller. C'è la mia Germania nel settembre. In coppia con Gerd Müller. Vedi, più esperto di te non ce n'è. Era pevattino, non ve lo ricordavo. Tu vai a vedere le parti alte che ci interessano. Tu ci arrivi un anno, nel settanta, non troppo. Nel settanta c'è neanche... Era il capitano della Germania nel settembre. C'è la mia Germania nel settembre. Sì, neanche un anno. Allora, torniamo a noi. Abbiamo... C'è la gigiria da quest'altra parte. Ma lasciamo perdere. Ma sì, andiamo a Victor, che invece sarà, diciamo, rimanendo nel calcio, darà un assist alle correnti atlantiche. Victor. Victor. Il ciclone Victor che domani troviamo qui da... Sì. Nel golfo di Biscaglia, nella zona lì dell'Europa occidentale. E però associato al movimento anti-orario, ricorda che il ciclone va sempre anti-orario nella zona dell'emisfero nord. E quindi che cosa fa? Pilota, come se fosse in autostrada, degli impulsi. Vedi, degli impulsi che poi arrivano in Mediterraneo e determinano, diciamo, delle precipitazioni. Tipo quella che c'è stata questa mattina, questa notte, anche da noi, il centro-sud. La prossima, quindi quella di mercoledì, invece, sarà concentrata più che altro al centro-nord. Infatti, se vediamo subito la mappa successiva, che è quella delle piogge... Recipitation? Sì. Vediamo. Accumuli di tutto mercoledì, quindi questa è una mappa sommatoria delle 24 ore. Sì. Come vedi, le piogge più importanti si manifesteranno tra Liguria, in parte Toscana, al nord-ovest. Comunque, piogge più o meno debole o debolissime tra il nord e anche il centro, qualcosina potrebbe arrivare anche da noi, ma più il lato occidentale, quindi nell'Aquilano, difficilmente nel settore Terramano, Pescaresi e Chietino. Comunque, non si può escludere del tutto. Non mai dire mai. E mentre invece al sud, dopo la giornata brutta di oggi, tornerà il sole o perlomeno tempo, diciamo, poco nuvoloso. Andiamo... Sì, diciamo, non adesso, in prospettiva, casomai, ci vuole prima la pioggia... Ah, ci vuole un po' di tempo. Poi lo diremo a Bruno martedì scorso, prossimo, perché... Allora, andiamo a vedere la mappa invece delle temperature, con la mappa questa italiana, forse si vede un po' poco con questo rosso. Però si vede. Vabbè, comunque, temperature che rimarranno per domani ancora abbastanza in linea con quelle che sono le medie del periodo, poco sopra. Anche da no, eccola, perfetto, così si vede meglio. Vedi, quasi in tutta Italia, se si fa eccezione per la Sicilia, le temperature sono... Sicilia è spettacolare. Eh, la Sicilia... 25-28. 25-28 in piena estate. Maravissima. Sul resto d'Italia, al nord, decisamente freschetto. E' amicilata dal Daosta, battono i denti. Battono i denti, sì. Lì, diciamo, non ci sono le correnti, tanto correnti lì becciali o anche sciroccali. Infatti, guarda la mappa, io ho preso questa mappa diversa da quella dell'altra volta, perché ci indica anche la ventilazione, abbastanza sostenuta in tutto il centro-sud, inizia, perché ti anticipo che il vento potrebbe essere uno dei protagonisti principali da noi, dei prossimi giorni. Sì, ciao domani? No, domani no. Per quanto riguarda, giusto per concludere, le temperature nostre, come vedi, temperature abbastanza nella norma, no? 15-20, insomma, appena sopra 20 nelle zone collinari e sotto i 20 nel resto della regione. Andiamo alla giornata di giovedì e come vedi il ciclone sta sempre qui. Quello è Victor. Victor, oppure potrebbe essere alimentato da un ulteriore ciclone in arrivo, sempre tra la Groenlandia, insomma, comunque Nord Atlantico, che andrà a rinvigorire Victor. Non so se poi l'Università di Berlino gli darà un nome nuovo. Ci sentiremo in serata. Ci sentiremo in serata. Se ce lo può dare in anticipo il nome è meglio. Comunque, sempre con questa circolazione anti-oraria, noi invece, noi inteso come Italia, saremo investiti da correnti occidentali che però, se tu ci fai caso, Pietro se puoi zoomare un attimo sull'Italia, iniziano ad avere una curvatura, ecco, vedi bene, una curvatura libecciale, da sud-ovest. Attenzione. Quindi libeccio a sud-ovest. Sì, anche perché guarda un po' la colorazione, soprattutto al sud, inizia ad assumere colori rosso, rosso, arancio intenso. Quindi le temperature torneranno a salire di nuovo. Giovedì. Eh sì, ci avremo due o tre giorni che torneranno quasi l'estate. Ma su. Eh sì. Vai dentro. Lo vediamo subito, intanto, con la mappa delle piogge, la prossima, la mappa delle piogge, con il nord, ancora il più interessato, lì le colorazioni... Che vuole bene, però. Esatto, volevo sottolineare questo, visto che ci seguono dalla Toscana. Liguria Toscana. Liguria Toscana, che quella colorazione inizia a essere, diciamo, pericolosa, tra virgolette, cioè le precipitazioni iniziano ad essere abbondanti, ma più o meno in tutto il nord, centro-nord, lato tirrenico, le precipitazioni potrebbero essere rilevanti. In tutto il centro-sud, invece, sarà dominante. Sicilia e Sardegna è uno spettacolo. Diciamo, diciamo, più che uno spettacolo, diciamo che non piove. Non piove. Perché poi, con queste correnti così, libecciali, è difficile che il cielo sia proprio terzo. È più facile che sia incerto, casomai, con velature stese e persistenti. Anche da noi, ti dico che, non l'abbiamo detto ieri per mercoledì, il tempo, diciamo, rimarrà sempre abbastanza variabile, velato, insomma, non c'è cielo limpido, sereno. Vediamo velocemente le temperature di giovedì. Le temperature di giovedì dovrebbero risalire un po'. Sì, dovrebbero risalire e infatti, guarda, da noi, innanzitutto, si vede, ecco, a livello italiano, praticamente l'Italia spaccata in duo, o meglio, diciamo che il nord Italia rimane al fresco, con temperature inferiori ai 20 gradi un po' ovunque, mentre invece, vedi quella, la ventilazione, si vedono i famosi... Gli famosi spermatozoi. Gli famosi spermatozoi che dicono, rispetto parlando, ovviamente, che assumono addirittura traiettoria sud-nord, quindi sciroccale. In Sicilia, dove si toccheranno anche i 30 gradi, mentre invece in Sardegna saranno lì becciali, quindi sud-ovest. Comunque, da noi inizierà a attivarsi il garbino, soprattutto su tutto il fronte adriatico, dall'Emilia Romagna alla Puglia. Ed infatti, se vediamo la regione Abruzzo, nello specifico, guarda qui, valori che torneranno a salire su, diciamo, quasi estivi. Certo, 25, 26, anche 27. Però, la differenza rispetto alle temperature alte delle settimane scorse, è che non c'è l'anticiclone, è proprio legato al vento forte di caduta, che determinerà queste temperature. Tant'è che nella zona aquilana... 19, 20, 21 gradi. Andiamo a questo giovedì. Giovedì, quindi, il vento inizierà a attivarsi e quindi le temperature. Nella giornata di venerdì, come vedi, la B sta sempre lì a pilotare il tempo dell'Europa centro-occidentale, ma la curvatura diventa molto più, guarda, diventa molto più intensa, va a pescare aria calda dal Nord Africa e quindi l'Italia, soprattutto quella del centro-sud, viene invasa, beneficia o si svantaggia, non lo so, va a pescare aria sempre più calda e quindi avremo un venerdì decisamente estivo in tutto il centro-sud, lo vediamo fra un'altra... Decisamente estivo, l'hai detto? Sì, l'ho detto, perché le temperature sfioreranno i 30 anche da noi. La gente dirà ma questo tempo... Ma guarda, questo tempo è impazzito. Diciamo, questa è la classica garbinata possibile in autunno, insomma. La garbina, quello di garbino è... Il problema, il problema è un altro, il problema è che questa B si avvicina all'Italia... Ma? No, ma le precipitazioni al centro-nord, al nord soprattutto, saranno ancora più intense, guarda la mappa delle precipitazioni. Ma da allarme? Beh, direi di sì, guarda la colorazione. Guarda un po', c'è il violaceo. C'è il violaceo, sono temperature, diciamo... Le precipitazioni possono essere... Sì, molto molto rilevanti, lo schema è tale per cui le zone più a rischio sicuramente sono quelle della Liguria, del Piemonte, e poi anche quelle del Trentino, della Lombardia, come vedi, insomma, le nuvole da sud si sposteranno verso nord e andranno a impattare, insomma, verso l'arco alpino che farà da muro alla rovescia. E quindi, infatti, guarda, guarda da noi, se vedi al centro Italia... Ecco, qui mi sposto, vedi, le precipitazioni... L'Appennino fa da... L'Appennino fa da muraglia, quindi nella zona adriatica, per capirci, ci sarà poco e nulla, basta vedere la mappa che sta vicino a te, dell'Abruzzo, con le piogge che se andranno a... Qualcosa arriva. Qualcosa a confine tra Lazio... Sì, tra Lazio e Abruzzo, più casomai nella Marsica, qualcosina, qualche debole scroscio anche nell'Aquilano e forse nelle zone più interne, quindi per dirti Isola, Montori, eccetera, eccetera, ma sulle zone costiere sicuramente no. Sarà sicuramente, non lo vediamo, ma lo vediamo in modo indiretto con la mappa delle temperature, sarà una giornata fortemente ventosa, super sciroccale e da noi anche... Guarda lì, si vede benissimo la provenienza dei venti da sud, soltanto in Sardegna i venti continuano a mantenersi libecciali, ma sul resto della penisola dominerà lo scirocco, scirocco molto intenso, molto forte, quindi tirerà vento forte sia nelle coste tirreniche e poi da noi, diciamo, in versione di Garbino, con le temperature, guarda lì che cosa accade da noi, Terramano, Pescarese e Chietino, esatto, valori che potrebbero sfiorare i 30 gradi, anche nella zona Aquilana, qualcosina in più, ma comunque valori un po' più bassi, complessivamente, sempre il Nord Italia sarà quello che rimarrà ancora, diciamo, moderatamente fresco. E siamo arrivati a questo punto alla copertina. Siamo al weekend, copertina con tanto tempo. E la musica, nel 17 ottobre del 1993, dominava le classifiche italiane Freddy Mercury, o meglio, non era Freddy Mercury, perché Freddy Mercury era morto due anni prima, ma fu fatto il remix di una sua canzone che aveva avuto successo nell'85, diciamo, rimodulata in versione discoteca dai No More Brothers. No More Brothers. No More Brothers. E ebbe un successone enorme anche in discoteca, appunto, nel 17 novembre 1993, era prima in classifica in Italia. Bravo. Perfetto. Andiamo avanti, proseguiamo con le nostre previsioni, sabato, e vediamo che la circolazione ciclonica, guarda lì, sabato 21 ottobre, diciamo, tutta l'Europa centro-occidentale è dominata dall'Atlantico. Ci sono una serie di ciclone, sì, come vedi, correnti atlantiche, nord-atlantiche, e le frecce azzurre, sì, esatto, quindi molto, diciamo, fredde, ma non freddissime, non, diciamo, invernali, pienamente invernali, e poi c'è il solito supporto di aria calda, da noi, ovviamente, siamo ancora invasi da correnti sud-occidentali, la differenza rispetto a venerdì, che dovrebbe andar via lo scirocco, quindi dovrebbe. Il condizionale. Sì, dovrebbe andar via perché siamo a sabato, ci allontaniamo e quindi il condizionale è d'obbligo, però il tutto in un contesto comunque fortemente instabile, anzi direi perturbato, soprattutto sempre al nord, centro-nord. Vediamo infatti la mappa delle precipitazioni, eccola qui, diciamo che è tutta l'Italia, che è praticamente sotto pioggia, ma le zone maggiormente colpite sono quelle tirreniche e ancora una volta quelle del nord, questa volta principalmente il Trentino Alto Adici, Friuli, Veneto, Lombardia, la parte alta, con comunque la colorazione, che sebbene di pioggia abbondanti, non è violacea come quella del venerdì. Quindi piove, ma... Piove, l'avanzata della circolazione, diciamo così, delle correnti atlantiche, fa sì che le precipitazioni raggiungeranno anche il sud, perlomeno quello peninsulare, e per quanto riguarda la nostra regione c'è, vedi, una maggiore ingerenza, diciamo, delle piogge, non soltanto nel settore aquilano, dove saranno più rilevanti, ma qualcosina dovrebbe raggiungere anche i settori adriatici, quindi le zone collinari, occasionalmente spondare fino al mare. Potrebbe piove ovunque? Sì, diciamo... Sabato? Sì, questo giornale, sì, diciamo, sarà soprattutto il sabato abbastanza incerto, no? Con probabili piogge. Le temperature, soprattutto se vediamo bene le correnti, vedi che le correnti sciroccali rimangono soltanto tra Calabria, Sicilia, orientale, Puglia, mentre il resto della penisola è invaso da correnti libecciali, non così intense come nei giorni precedenti, ed infatti le temperature inizieranno pochettino, un pochettino a scendere, pur rimanendo su valori comunque superiori alle medie del periodo, addirittura anche al nord Italia si potranno superare i 20 gradi, quindi saremo comunque soggetti a correnti libecciali legate a quella circolazione ciclonica, diciamo figlia di Victor, non sappiamo come si chiamerà, come verrà chiamata, però comunque è quella, e quindi non sarà, diciamo, non sarà bel tempo, assolutamente, anzi forse sabato è la giornata più brutta in tutta l'Italia, un po' su tutta la... in autunno può succedere. Concludiamo la carrellata con la domenica, sì, con la circolazione che rimane più o meno identica, si allontana, diciamo, il nucleo più, diciamo, il ciclone principale, che risale un po' verso la Gran Bretagna, ma è così forte, così potente da praticamente abbracciare di nuovo tutta l'Europa, noi sempre sotto correnti libecciali da sud-ovest, e quindi, velocemente, andiamo a vedere subito la mappa delle piogge, avremo delle precipitazioni meno intense, come vedi le colorazioni iniziano ad attenuarsi, il verde indica piogge, diciamo così, moderate, se non deboli, ma più o meno lo schema è sempre lo stesso, l'Appennino sembra tendere a proteggere e quindi a ridurre o smorzare del tutto le precipitazioni nei settori adriatici, dall'Emilia Romagna fino alla Puglia, in poche parole, anche vista nell'Abruzzo, piogge possibili, soprattutto nel settore aquilano. Chiudiamo la mappa con le temperature di domenica che inizieranno ulteriormente a scendere, come vedi i valori, chiamiamoli estivi, non ci saranno quasi dappertutto, neanche in Sicilia, 25 gradi in Sicilia siamo quasi nella norma, e valori 23, 24, 25, sopra quelle che sono le medie di ottobre, ma comunque non i 28, 29, del venerdì soprattutto. A questo punto ci possiamo andare a sedere, perché chiudiamo la nostra analisi innanzitutto con gli spaghi meteo, che ci proiettano più avanti. Sì, allora che cosa accade? Quindi come abbiamo detto, questa impennata di due o tre giorni delle curve sopra la media del periodo, che è sempre la linea rossa, poi avremo... I giorni di venerdì e sabato. Sì, poi da domenica iniziano a scendere, lunedì ancora in modo più brusco, per ritornare verso la normalità. Normalità che sembrerebbe... Quei giallino laggiù. Sì, nella normalità, come vedi, sono curve che più o meno vanno a braccetto con la curva rossa, leggermente più alte, ma all'incirca siamo lì. E con un continuo, diciamo, intervallarsi di fase di pioggia, fasi più soleggiate, diciamo autunno classico. Chiudiamo la previsione con lo schema dell'aeronautica militare che ci proietta anche più avanti, con questo schema molto semplice, facile, che ci permette di capire le settimane. Allora, al nord Italia avremo più pioggia nel normale questa settimana e anche la prossima, poi nella normalità quelle successive. Al centro Italia più pioggia questa settimana, la prossima e anche quella successiva, andiamo a finire già a novembre, mentre al sud Italia più pioggia del previsto in questa settimana e nella prossima e poi normalità. Per quanto riguarda le temperature, come vedi, il rosso domina e quindi le temperature tenderanno a rimanere sempre abbastanza miti, quindi non c'è nessun anticipo d'inverno, per capirci, né al nord, né al centro, né al sud Italia. Ok, a questo punto, chiuse le previsioni, sai che ci andiamo a vedere? Ci vediamo una cosa particolare, e cioè il buco dell'ozono. Buco dell'ozono. Il buco dell'ozono, il famigerato buco dell'ozono. Famigerato buco dell'ozono. Ti faccio vedere questa, Pietro è già pronto con un video, però prima lo volevo spiegare un secondo. Lo introducerà. Lo introduciamo, sì. Praticamente che cosa accade? Accade che nell'emisfero sud, in questo caso, da fine agosto, si crea il buco dell'ozono, che è naturale. Sì, che è in modo naturale. Ah, non chiamo noi. Però quest'anno, in modo particolare, è molto molto più grosso, tant'è che era scattato l'allarme, ci risiamo con l'inquinamento, eccetera. Invece pare che, dalle ricerche, la colpa principale di tutto ciò è stata del vulcano Tonga, che niente popo di meno che, ha eruttato nel gennaio 2022, quindi quasi due anni fa, e continua a produrre effetti. Sì, il vulcano Tonga praticamente ha immesso in stratosfera, dove appunto ci sono, diciamo, le molecole di ozono, una quantità enorme di vapore acqueo, che favorisce... E che ha aumentato, ha creato il buco. Sì, crea un po' un effetto simile a quello del, diciamo, del fluoro carburi che hanno creato questo, diciamo, che, sai, hanno creato l'allarme degli anni 80-90, no? Da qui, diciamo, la riduzione drastica di questa produzione di clorofloro carburi. Ti faccio vedere il video che, molto velocemente, ci fa vedere, dal primo gennaio ad oggi, come si è comportato lo... diciamo, lo zono in queste zone. Guarda qui, va molto veloce. Quando vedi questa copertura, significa che sta facendo il suo dovere, ma a un certo punto, eccolo qui, che appare e diventa sempre più grande, man mano che passa il tempo, eccolo qui, guarda lì. Guarda, è diventato un vero e proprio buco che va, eccolo, fermo là, se il Pietro riesce a fermo là, si vede praticamente tutto l'Antartide. E quindi proprio... Che ci fa al buco aperto che succede? Al buco aperto significa che lo zono non c'è, significa che i raggi ultravioletti passano liberamente senza essere... Ci fanno cascare i capelli. No, ce li fanno ricrescere. Sì, può darsi chissà. Comunque, insomma, è una situazione molto molto particolare. Ok, siamo ormai arrivati e dobbiamo vedere l'ultima cosa della puntata. Un record. Abbiamo visto gli estremi nord e sud del mondo, vediamo quelli dell'Italia, velocemente. Quello del sud è facile. Che facile? Quale può essere la località? Quella là. Lampedusa. Lampedusa. Ma quella del nord è un po' di meno. Ed è Predoi, un paesino in provincia di Bolzano. Guarda, la distanza tra gli estremi è di 1.283,81 km. Pensa un po' che distanza. Predoi. Ti faccio vedere una cartolina veloce di entrambi, Lampedusa va bene, è più facile, è più famosa, tra virgolette. Predoi, un paesetto di 515 abitanti. Noi salutiamo tutti. Che è all'altezza di 1.475 metri, praticamente tipo piazzale di Pratitivo, e che è l'unico, tra l'altro, l'unico centro abitato a confine con un centro abitato di rimpetto dell'Austria, perché in realtà poi le Alpi fanno da confine naturale, ma non ci sono centri abitati. Predoi. Mentre invece Lampedusa, lo sappiamo, 6.700 abitanti, spettacolo, eccetera, eccetera. E con questo, con 30 minuti oltre, direi di stoppare. Direi che possiamo chiudere qui. Caro Marco, noi ci vediamo, non so se... Martedì prossimo, 24 ottobre, sempre qui. Ci vediamo martedì, arrivederci. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti.